Dall'1 gennaio la regione non è più titolare della gestione del ciclo integrato dei rifiuti perché, assecondando una richiesta del Lanci, è stata approvata una legge regionale che consente ai comuni la possibilità di delegare ancora la gestione fino al 31 dicembre 2019. Alcuni ambiti, come quello di Catanzaro, hanno già anticipato che delegeranno la gestione per tre mesi, ma molti altri comuni sono indietro e in difficoltà. E' quanto è emerso a margine del seminario tecnico formativo Anci Conai sulla gestione dei rifiuti e la tariffazione che si è tenuto nella città della regionale. Il tema è stato al centro di un confronto tra Anci, guidato dal presidente Gianluca Callipo, e l'assessore regionale all'ambiente Antonella Rizzo. La situazione, secondo l'assessore, è questa. Nonostante le rassicurazioni avute da alleato, la regione non ha avuto la delegata a tutti i comuni, così come l'aumento della tariffazione è un ulteriore rischio con cui fare i conti. Sì, da tempo evidenziamo una serie di problematiche legate alla gestione del sistema dei rifiuti, al passaggio delle competenze ai comuni, ma da tempo, devo dire la verità, abbiamo avviato un confronto costruttivo e utile con l'assessorato, col Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, in particolare con l'assessore Antonella Rizzo. Cosa che faremo anche oggi, si riunisce il direttivo oggi qui in Cittadella, in occasione del seminario per illustrare quelli che sono i vantaggi dell'accordo Anci-Conai, ma con l'occasione approfondiremo anche alcune questioni legate al sistema dei rifiuti, in particolare gli aspetti legati alle tariffe che si dovranno applicare nel prossimo futuro. C'è un rischio di un aumento delle tariffe? Sì, anche per le vicende legate alla necessità di dover andare fuori regione per il conferimento dei rifiuti, sappiamo le problematiche legate alle discariche della nostra regione, quindi è necessario da una parte far sì che le Ato, che ormai sono pienamente operative, con il lavoro che abbiamo svolto nell'ultimo anno, individuino in ciascun ambito quelle che sono le sedi dove poi si dovrà realizzare l'impiantistica già prevista nel piano dei rifiuti e nel frattempo bisogna però trovare delle soluzioni che possano tamponare la situazione di difficoltà che oggi c'è, evitando di accrescere eccessivamente il costo di un sistema che è già abbastanza costoso. È ovvio che questo sistema è un sistema che da lungo tempo, nonostante il commissariamento, non ha trovato nella realizzazione dell'impiantistica necessaria nei tempi in cui questo si sarebbe già dovuto fare delle soluzioni e queste soluzioni vanno trovate oggi. Certamente ci sono dei ritardi, bisogna riconoscere gli importanti risultati che si sono ottenuti con l'incremento della raccolta differenziata, anche grazie ovviamente al lavoro e all'impegno dei comuni, dei sindaci, delle comunità. Questo non sempre però si è trasformato in una riduzione dei costi nei confronti dei cittadini perché il sistema ha degli elevati costi fissi, oggi discuteremo proprio di questo, e a seguito di elevati costi fissi una riduzione dei rifiuti che vanno in discarica, per fortuna grazie all'aumento della differenziata, comunque fa sì che aumenti il costo per tonnellata conferita perché il sistema comunque ha un costo fisso che è quello. Di tutto questo prevoleremo a individuare quali soluzioni insieme alla regione possano attuarsi per ridurre il più possibile il carico sui comuni e quindi sui cittadini. Come lei sa noi dal 1 gennaio non siamo più i titolari del ciclo integrato dei rifiuti ma abbiamo, secondo proprio quello che è stata la richiesta avanzata dal lancio, approvato una legge regionale che dà la possibilità ai comuni di delegarci fino al massimo, il 31 dicembre 2019, ancora la gestione. Alcuni comuni hanno già detto in maniera molto chiara che riusciranno a delegarci soltanto per tre mesi nel caso del lato di Catanzaro perché sono già per fortuna avanti e quindi avranno bisogno del nostro supporto per circa 90 giorni. Altri invece sono un po' più indietro e quindi richiedono un ulteriore aiuto. La situazione oggi è questa, nonostante le rassicurazioni avute dal leato noi ancora non abbiamo ottenuto la delega da parte di tutti i comuni. stiamo continuando a mantenere responsabilmente la gestione ma se non dovessimo ottenere nel giro di una decina di giorni queste deleghe naturalmente non potremo più assumerci la responsabilità. Ritengo comunque che i presidenti del leato abbiano capito che è il caso di accelerare quanto più possibile. Abbiamo avuto una riunione due giorni fa, ne avremo un'altra anche la prossima settimana. Faremo ancora delle riunioni ato per ato. Abbiamo, grazie anche al contributo del CONAI, assicurato alleato che ancora non hanno predisposto il piano d'ambito che avranno un supporto anche da questo punto di vista. I rifiuti che sono prodotti in un ambito territoriale devono essere smaltiti nello stesso ambito. Questo significa che così come abbiamo stabilito nel piano regionale dei rifiuti per ogni impianto ci deve essere almeno una discarica di servizio a supporto dell'impianto stesso. Capisco la ritrosia dei comuni nell'andare ad individuare i siti. Oggi la situazione è che noi abbiamo pochissime discariche che sono disponibili. Una di queste è una discarica privata che più volte ha detto che sta finendo gli spazi per cui, gioco forza, bisognerà andare fino a quando i comuni non si renderanno conto di questa necessità andare fuori regione e questo significa che i costi aumentano. Sarebbe tutto invece più semplice visto che la regione mette a disposizione le risorse se noi andassimo a costruire delle discariche pubbliche, discariche in cui è il pubblico quindi sono i comuni che stabiliscono la tariffa di conferimento e soprattutto le volumetrie che sono necessarie a raggiungere l'autosufficienza del lato. Dopodiché la gestione può essere data con evidenza pubblica ai privati perché io credo in una perfetta integrazione tra pubblico e privato. Bene, chiara questa scala gerarchica.